Senza testa, perché non c'è la testa, e c'è una lettera A che è l'A di Alice. Allora, che ci dice di senza testa? È un robotino piccolo che si muove mentre gira, un po' come fa la terra, si gira su se stessa mentre muove. Attacca? Sì, attacca, vedi c'ha gli spinocci. Ok. Un più o meno. Un più o meno. Se ci metti la faccia davanti... Ce l'hai tre aggettivi per senza testa? No. Senza testa, decapitato. Ok. Visto, fa un po' come la terra. Bellissimo.